Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati al mio piccolo mondo creativo. Oggi video particolare, vi parlerò di questo negozio, Pepco. È un negozio molto rivoluzionario, secondo i miei gusti, per i prezzi che ha. Wow, ha delle cose stupende, meravigliose. Arredo per la casa, si trova un po' di tutto. Vestiti per uomo, donna, bambini. Penso che molti di voi lo conoscete già. Ma rimanete qua con me che vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso. Ripeto, un negozio mai visto qua in Italia, così, con i prezzi convenienti. Accessibile. Non vi parlo più, vi lascio al video. Non vi parlo più, vi lascio al video. Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.